Amici del piccolo magazine, siamo qui alle Giardenne di Milano per l'Eurodrag 2021 che si è appena concluso e siamo in compagnia di Stella P. Rogers. Ciao, benvenuta. Com'è andata la serata, questo concorso? Ciao, innanzitutto è stato bellissimo, è stata una serata fantastica, è stato anche divertentissimo. Le mie compagne spettacolari. Vedo che hai un costume bellissimo, questi outfit li crei da sola o prendi ispirazione da qualcuno? Grazie, io faccio tutto da me, sono stati realizzati da me e sì, prendo spunto dalle dive o le dvdiane. Hai fatto anche un numero di burlesque eccezionale? Sì, la mia specialità è proprio questa e vorrei portare in giro il draglesque e il burlesque, sì, quindi non potevo non portare un pezzo di burlesque. Perfetto, grazie mille per la tua partecipazione e speriamo di rivederti presto. Grazie mille a voi e a presto.